Abbiamo accolto oggi su Altezza Serenissima Alberto II di Monaco con grande amicizia e lo ringraziamo di questa visita. È stato di grande interesse parlare con su Altezza Serenissima poco fa durante la visita del Paese. È una gioia poterlo accompagnare nei luoghi a noi cari. In alcuni casi questi luoghi cari sono testimonianza diretta del passaggio della famiglia Grimaldi del secolo di Stato. È importante per me come sindaco esprimere a tutti i presenti, ma in primo luogo, a sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco, un sentito ringraziamento per aver reso possibile questa storica giornata, a memoria futura impressa sulla stele che avete avuto modo di vedere e che sono sicuro che ha reso i cittadini, tutti i cittadini fieri della loro appartenenza a questa grande storia comune. Abbiamo molto in comune e nell'accommiatarmi esprimo l'auspicio che la grande amicizia che vi è tra Principato di Monaco e Rocca Grimalda si traduca in nuovi e importanti occasioni di collaborazione in tutte le eccellenze che lo ricordano. Ringrazio molto Su Altezza Serenissima per questa visita, per le cose di grande interesse che mi ha detto e sono lietissimo di registrare questo carattere di primaria importanza che rivesta il rapporto antico che ci lega e devo anche aggiungere che in questa mattinata ho trovato una familiarità straordinaria, un trasporto di cuore con il Principe. Lei, Principe Alberto, sarà sempre il benvenuto nella sua e nostra Rocca Grimalda. Signor Sindaco, per eccellenza, autorità, signori e signori cari amici, signor Sindaco oggi mi ha fatto l'onore di accogliermi nel suo bel comune per celebrare i legami storici che riuniscono alla mia famiglia. Considerata la nostra storia comune, le ha gradito l'iscrizione di Rocca Grimalda all'Associazione Italiana dei Sinti Storici Grimalda del Principato di Monaco nata due anni fa sull'iniziativa di Fuglia Gazzola, il dinamico sindaco di Dolce Acqua. Veramente grazie di cuore per questo. Mi ha persino conferito il privilegio della cittadinanza onoraria di Rocca Grimalda. Mi sono compiaciuto e te la accetto con orgoglio. felice di poter riprendere il corso della storia di avere così un attaccamento in più al vostro comune. Vi rivolgo sin da ora, vi invito per una futura edizione degli incontri nei siti storici di Mani di Monaco sulla piazza del Palazzo Amare. Veramente grazie ancora sino al sindaco per la calorosa accoglienza. Vorrei ringraziare tutta la municipalità e i suoi collaboratori per aver partecipato al successo di questa macchinata che vi ricorderò sempre con molta emozione e anche molto piacere. Grazie. Grazie.